Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Oggi vlog molto molto easy, semplice e tranquillo, anche perché non so se vedete la mia faccia, ma vengo da una settimana di fuoco. Sono stati dei giorni intensi dove non mi sono quasi mai fermata un attimo e diciamo che non sono proprio abituata a stare sempre in giro, on the road comunque. A parte ciò, quindi oggi insomma ho un po' di cose da recuperare, da fare. In più oggi è una giornata, si prospetta uggiosa e molto nuvolosa, quindi non mi aiuta. Non credo di essere una persona meteoropatica, però quando già provengo da una situazione di stanchezza e in più c'è questo cielo grigio così, diciamo che concilia tutto tranne l'attività pratica. Cioè vorresti solo dormire e svegliarti il giorno dopo praticamente, quindi staremo a vedere che cosa succederà. In più per questa cosa dell'ansia di questi giorni, ho quest'occhio che mi traballa. Avete presente quando sentite quel tic tipo così? Sono due giorni. Ma ce ne faremo una ragionina, è vero? Che c'hai sul nasino mami? Vieni che te lo tolgo, vieni, vieni qua. Cos'è un pezzo di... che cos'è un pezzo di pulverina? 11.02 ragazzi, vabbè, si può fare, dai, si può fare. Dopo devo anche passare al supermercato, quindi vi porto con me. Prima perché sto organizzando un video, assaggio snack, ovviamente quando tutta questa situazione della mia dieta sarà finita, terminata, anche perché io devo fare quattro settimane di chetogenica, ma in realtà il mio nutrizionista me l'ha aumentata a sei, quindi devo farne altre due, con una piccola integrazione di carboidrati e zuccheri che sarebbero gallette e frutta. Quindi sì, poi mercoledì, quindi tra due giorni ho la visita, devo fare le analisi, però in sostanza diciamo che va bene. Con la chetogenica ho perso quasi un kilo a settimana, quindi tipo quasi cinque chili li ho persi solo con questa dieta. Però se non funzionava questa io penso che dovevo tipo, non lo so, andare direttamente all'URD o farmi direttamente buttare, prendere e buttare. Quindi detto ciò, vediamo di iniziare la giornata di oggi con potenza e prepotenza. Non posso neanche svegliarmi con una botta di caffeina perché io non lo bevo il caffè, quindi sì. Allora mi sono rifatta i capelli per l'ottantesima volta perché con questa umidità, pompevo in bocca, con questa umidità cioè durano veramente il tempo che trovano. Adesso 12.40, si legge? Sì, si legge. Vi faccio vedere quando torno, che ore sono e come stanno i capelli dopo essere uscita in queste condizioni. Comunque l'outfit è questo, ho messo una camicetta nera, l'ho messa qua dentro, sotto ho un body perché altrimenti arriverebbe qua la camicetta, non mi sembra il caso di uscire così. Jeans, cinturina e i sandalini questi qua della Dr. Martens. Detto ciò, vado a fare la spesa. Allora, eccoci al supermercato con il nostro carrellino, pronti. Allora, gallette, non mi ha specificato quali ma credo proprio quelle di farro che prendo sempre, quindi prenderò queste e via. Poi in realtà devo riprendere tutto quello che c'è su questa lista perché non ho più né affettati né olive né petto di tacchino, forse alle verdure. Ora, sono nel reparto biscotti per vedere se trovo qualcosa che si possa inserire nel video. Allora, in realtà questi io non li ho mai visti e addirittura sono della Resis, però li sento un po' squagliatini, non lo so. Questi mi ispirano un casino, ma proprio in generale nella vita. Col cioccolato sopra devono essere buonissimi, però non c'è niente di interessante. Questo che cos'è? Galbusera? No, niente di che. Questi che sono? Oh, i Choco Sticks della Milka. Sicuramente prendo questi, i Ringo al cocco perché vanno provati. Questo anche mi ispira un casino. Che cos'è Bisco Choc Ringo? C'è anche la versione normale con le nocciole. Qui ci sono gli Oreo di Lady Gaga, ma che è solo confezione, quindi non ha senso. Però mi hanno detto di provare a prendere questi, che sono i Baci Perugina Limited Edition con Dolce Gabbana. Quindi questi li prendiamo, ma mi è venuto in mente adesso che li ho visti. In teoria doveva uscire la cioccolata del Ferrero Rocher, fatta a tavoletta. Però non credo sia ancora uscita perché non vedo niente. Di solito questo supermercato ha tutto. Quindi ora me ne vado a prendere il mio yogurtino. No, non ci sono le confezioni grandi. Quindi devo passare pure a un altro supermercato. O comunque prendere questi piccoli. Però non conviene. Ho preso anche il pesciolino. Eccolo qua. Me lo sto pulendo. Ho passato letteralmente un'ora alle poste. E ora vi dico anche perché è un'ora. Perché ho messo una storia mentre ero lì. E questa storia l'ho messa 50 minuti fa e stavo lì già da un pochino. Quindi immaginiamo un attimino la cosa. Ma io devo capire le poste veramente come lavorano. Non lo so. Li pagano. Penso li paghino per lavorare. Ma vabbè. Comunque sono le tre quasi. Io sto tornando a casa adesso. Dovevo andare a ricaricare la poste pay. E ci ho messo letteralmente un'ora per farlo. Mi sta scoppiando il cervelletto. Comunque torno a casa. Pranzo. E poi devo montare il weekly vlog. Che voi sicuramente avrete già visto prima di questo. Nel mentre è uscito anche il what I eat in a day. Della mia dieta keto. Quindi niente ho la spesa qui dietro. Adesso vi faccio anche vedere alla fine cosa ho preso. Devo capire dov'è la mia spesa da 55 euro. Ma comunque. Allora. No vabbè quasi 10 euro. So solo di pollo. Pollo da smezzare. Fare tutte le mie varie bustine pesare eccetera. Questi hamburger qui che non li ho mai provati. Quindi ho detto ma proviamoli. Stavo in un'offerta. Salmone affumicato. Questo qua della coppa è il mio preferito. Poi due tipi di latte diverso. Perché in realtà io bevo lo zimilco. Il tappo rosso ma non c'è mai. Quindi ho detto ora provo questi. Che sono entrambi senza lattosio. Perché se no mi fa male al pancino. Però questi dovrebbero essere. Vedete gusto pieno. Insomma un po' più gustosi. Tra virgolette. Poi le gallette di farro. Questi sono gli affettati. Il petto di tacchino sottovuoto. Questo qui l'ho preso al banco. Mozzarella sempre senza lattosio. Tonno. Pomodori. L'insalata. Avocado. Questo qui è il mio calamaretto. Cipolla. Perché ovviamente io mi prendo tipo un pacco di cipolle a settimana che lo finisco. E queste vabbè sono le cose per fare il video assaggi. Che ok sta qui. Oggi a pranzo ho 100 grammi di bresaola. Che sarebbe insomma affettato. Olive. Al posto dell'olive ci metto un pezzo di parmigiano. Verdure. E ok. Olio. Fatemi spegnere la tv. Perché adesso salgo. Mi metto un attimo più comoda. Questa è la situazione dei miei capelli. Cioè vi rendete conto quando vi dico che boh non lo so cosa è che sbaglio. Comunque mentre mangio mi voglio vedere un video di Elisa True Crime. Perché oggi è lunedì. Quindi appuntamento fisso. Elisa se stai guardando questo video ti ho scritto su Instagram ok. Però sappi che per me la chiave è l'impegno e la tua voce. Cioè proprio sono due cose palesi che si vedono super detto ciò. Appunto vedrò il suo video. E poi prima o poi vorrei iniziare a vedere la serie che si chiama Squid Game. Che è una serie tv coreana. Che mi hanno consigliato tutti. Lo devo vedere lo so. Ed eccomi pronta con il mio patto di pollo. Verdurine, parmigiano e ovviamente il video di Elisa. Mi sono data una truccata. Ho fatto questo make up con questa palettina nuova di Uda. Il problema è che non so quanto si possa notare. Ma ho quest'occhio che vedete ha il tic culo che vi dicevo stamattina. E vi giuro che è super super fastidioso. Io credo sia soltanto una questione di boh ansia, stress. Non chiamatelo come vi pare. Ma ora mettermi a girare con quest'occhio sarà lunga. Sarà lunga. Devo registrare il video sulle domande che mi avete fatto sulla mastopessi. Sull'operazione che ho fatto ormai quasi due anni fa. Di cui mi chiedete veramente ogni giorno. Ogni giorno mi arrivano messaggi, cose. Quindi ho detto prendo e rispondo insomma un po' di curiosità, un po' di cose. Almeno un video tranquillo che riesco a fare magari in quella mezz'oretta, 40 minuti. E mi metto appunto a montare tutto quanto. Ok, mi sono lentamente tolta dei pezzi come le labbra, le ciglia. Dove stanno? Le ciglia che avevo, che se ve lo stavate chiedendo, sono le Pride di Sosu. E se poi magari questa macchinetta me mette pure a fuoco, me fa due favori. Ok, così va meglio grazie. Queste qua erano le ciglia. Ho tolto anche le lentine che se vi va, vi dico, sono le Polar Lights di TD Dye. In realtà questa base mi piace un casino come mi è venuta fuori oggi. Vabbè, mi piace tutto il makeup, quindi mi sono fatta pure qualche foto. Mi sto vedendo questo video di Kalel. Io adoro questo ragazzo alla follia. Ovviamente, soprattutto quando parla della Marvel e tutte le cose di Harry Potter, ma adesso ho iniziato con il commentare i vari film della Disney, tipo High School Musical, Camp Rock e mi toglie veramente la vita. Tra l'altro sapete di cosa volevo parlarvi? Di un argomento che ogni tanto esce fuori, anche quando mi scrivete su Instagram o nei commenti, su YouTube. Adesso che sono tornata in pianta stabile, spero, qui su YouTube, mi fate spesso una domanda che può sembrare banale, ma non lo è. Non lo è mai. Cioè, ila, come stai? A volte pensiamo che sia così tanto banale che è come se ci scordassimo di porci questa domanda verso noi stessi e soprattutto fare questa domanda anche agli altri. Quindi non sottovalutiamola, ricordiamoci di chiedere effettivamente le persone come stanno. Perché magari una persona non vuole parlarne e quindi ti dirà semplicemente, taglierà corto e farà tutto bene tu. Però c'è anche chi ti dice, ma sai, effettivamente, e iniziano, no, a desporti pensieri, perplessità, dubbi, problemi. Puoi aiutare, no, qualcuno anche indirettamente non sapendolo. Ma a parte ciò, a parte questo preambolo, sapete che ogni tanto esce la mia parte un po' filosofica, questo periodo non è, non è un periodo facile. E voi direte, ma sei una ragazza di 23 anni, quali problemi potrai mai avere? Non vi preoccupate. Ho un po' di problemini. Nulla di grave, ovviamente, è tutto, spero, risolvibile. Sono tanti i pensieri, più che altro. Vabbè, verso il futuro credo di avervelo detto sempre. Io sono una persona che ha tanti interessi, che ha tante passioni, e probabilmente non gli basterebbe una vita per fare tutto quello che vuole fare, tutte le esperienze che vorrebbe, no, effettivamente provare. A volte me la sento molto, 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 molto stretta. D'altra parte, ve ne ho già parlato anche in un altro vlog, purtroppo a volte ti manca quel coraggio di fare le cose che vorresti fare, i sogni che vorresti intraprendere, o semplicemente a volte mancano delle basi, delle finanze, non lo so, qualsiasi sia la cosa che un po' vi frena. Pensate, perché ovviamente poi parte tutto da qui, no? Che pensate di fare? Quindi è un periodo un po' riflessivo. Non vi nego che ho passato un periodo in cui ho pianto, pianto tanto, non c'è niente di male nel dirlo, vedevo e in realtà in qualche senso continuo a vedere un po' tutto nero e abbastanza annebbiato. Mi sono guardata allo specchio e mi sono detta, l'unica persona che può fare qualcosa siamo noi, sei tu. Sto cercando un po' di rimettere in moto tutto quello che mi fa stare bene e soprattutto mi fa sentire utile, come se stessi facendo effettivamente qualcosa di sensato, di concreto e non semplicemente svegliarsi e non sapere cosa fare. Quindi sto cercando di riprendere un po' in mano questo aspetto qui della mia vita ed è anche per questo che mi vedete un po' più attiva anche qui su YouTube. Ho avuto un periodo dove non volevo proprio starci su questa piattaforma, lo sapete, ve l'ho già detto. In realtà io vi dico sempre tutto, quindi penso a molte cose voi già le sappiate, però mi sentivo in qualche modo costretta a dover fare per forza delle cose quando magari non era il momento, semplicemente non ne avevo voglia, non avevo lo stimolo e quindi questa cosa mi ha portato poi lentamente ad allontanarmi. Comunque io sono tanti anni che sono su YouTube, non è uno, due anni, dieci anni, cioè è un decade completo. Però posso dire di aver e di star soprattutto lentamente riprendendo la mia strada. So che ci vorrà del tempo, so che ho perso tanti contatti, occasioni, tanti numeri perché ci sta anche quello, però sono pronta, determinata. Ovviamente tante cose le devo anche grazie a voi. Alcuni di voi me li ricordo sempre, scrivono quando mi commentano e mi fa piacere leggere e continuare a leggere i nomi di queste persone, poi quando li rivedo mi fa pensare che sto facendo qualcosa di giusto appunto. Oddio mi sta facendo male il braccio, sto cercando di stare così per non avere il riflesso, mi ha dato degli occhiali. Detto questo piccolo sfogo ci tenevo a condividerlo con voi perché una delle cose che mi piace sicuramente dei social è che io condivido la mia esperienza ma magari qualcuno sta passando la stessa cosa e facendo così si sente in qualche modo un po' meno solo o capito da qualcuno, quindi sappiate che in quel caso insomma vi capisco. Quindi niente, detto ciò, si è fatta una certa ragazzi. Io dovrei anche andarmi a ripulire e soprattutto iniziare a cucinarmi qualcosina per cena anche perché non ho visto effettivamente, ahia, che cosa ho, che cosa ho stasera per cena, però sicuramente ho le gallette, finalmente posso reintegrare qualche galletta. Se mi sono struccata, docciata, pronta per andare a dormire, tra l'altro stamattina ho cambiato le lenzuola quindi ve lo devo dire, quanto non vedo l'ora di mettermi dormire dolci sogni sull'enzuola pulite pulite pulite, ma comunque ho un coton fiocco in mano perché mi stavo andando a togliere la colla delle ciglia finte che mi era rimasta qua. Adesso prima di tutto devo lavare queste ciabatte che ho indosso perché non so per quale motivo ho visto che c'è del cacao amaro del tortino che tra l'altro vi ho ripreso l'altro giorno del What is it in a day? Quindi mi devo mettere a lavarle. Poi stasera in teoria c'è il GF e tra l'altro domani devo fare l'allenamento col personal trainer. Abbiamo cambiato orario invece di andare alle 8 di sera andiamo a mezzogiorno quindi sì non mi devo svegliare eccessivamente presto però c'ho un pelo. Oggi ho questi peli. Detto ciò quindi il vlog di oggi finisce qua. Spero vi sia piaciuto come sempre che vi abbia venuto compagnia. So che i vlog sono la vostra cosa preferita e quindi cerco di farne di più anche se ripeto insomma non è che ho questa grande vita spericolata quindi sì quella è l'unica cosa che mi frena però vabbè dettagli. Vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!